Che nessuno sia fornicatore, che nessuno sia fornicatore o profano come Esau, che per una sola pietanza vendete la sua primogenitura. Attenzione alla fornicazione, attenzione ad essere profano, in quanto si può perdere il regno di Dio. Il Signore dice, in qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate ciò che vi sarà messo davanti, ascoltate ciò che vi viene messo davanti, guarite i malati che ci saranno e dite loro, il regno di Dio si è avvicinato a voi. Si può, può accadere che il regno di Dio si avvicina a noi attraverso un mediatore, attraverso un messaggero di Dio e il Signore dice, badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla. Perché possiamo perdere? Per i nostri vizi. Perché possiamo perdere il regno di Dio? Perché il regno di Dio quando si avvicina alla nostra vita, la parola del Signore quando si avvicina alla nostra vita, la grazia di Dio quando ci offre un ruolo, il ruolo di primogenito, il Signore dice, badate di non rifiutarvi, che nessuno sia fornicatore o profano come Esau, che per una sola pietanza vendete la sua primogenitura, attenzione, può passare nella nostra vita un messaggero di Dio, la parola del Signore, badate di non rifiutarvi. Il Signore dice, infatti, sapete, che anche più tardi, quando vuole ereditare la benedizione, Esau fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime perché non ci fu ravvedimento. Il regno di Dio passa nella tua vita. La parola del Signore passa nella tua vita. Ti dà un ruolo. Ti dice, hai ricevuto la grazia di Dio, sei primogenito, stai avanti, sei il primo. Ma attenzione, badate a non essere profani o fornicatori come Esau, perché si perde per una pietanza davanti a Dio, al linguaggio di Dio e pietanza, quando noi seguiamo i nostri vici. Il regno di Dio passa accanto a noi, ci parla dal cielo, ma noi per una pietanza, per fornicazione, perdiamo, o per altri vici, perdiamo il regno di Dio. Perdiamo il ruolo, un ruolo di essere primo, di essere davanti, davanti a Dio. Attenzione, la parola del Signore come spiega? Voi non vi siete avvicinati al monte. Tu che ascolti, tu che hai ricevuto un messaggero di Dio, che ti ha parlato da parte di Dio, tu non ti sei avvicinato al monte, tu non hai sentito colui che parla dal cielo, ma qualcuno è passato nella tua vita a parlarti del regno di Dio e a darti un ruolo di primogenito. Attenzione, voi non vi siete avvicinati al monte che si poteva toccare con mano e che era avvolto nel fuoco, né all'oscurità, né alle tenebre, né alla tempesta, né allo squillo di tromba, né al suono di parole, tale che quanti lo dirono, supplicarono, che più non fosse loro rivolta altra parola. La parola del Signore è come un fuoco, è colui che parla dal cielo attraverso messaggeri di Dio, può essere un fuoco e non lo vogliamo, non ci vogliamo avvicinare, non vogliamo avvicinarci, perché è come un fuoco, è un'oscurità, è come un fuoco, è come una tempesta, è come uno squillo di tromba, né al suono di parole, attenzione, tali che quanto lo dirono, supplicarono, che non fosse loro più rivolta altra parola, non voglio ascoltare, perché è un fuoco per me questa parola, parola, perché non potevano sopportare quest'ordine se anche una bestia tocca il monte, si è lapidata, ma qualcuno ha potuto sentire la parola del Signore. Mosè, tanto spaventevole era lo spettacolo, che Mosè disse, sono spaventato e tremo. Quindi qualcuno si è avvicinato alla tempesta, all'oscurità, allo squillo di tromba, al suono di parole, qualcuno ha sentito Dio, attenzione che qualcuno può passare nella nostra vita, e portarci un messaggio, dirci sei stato messo davanti, hai ricevuto un ruolo di primogenito, attenzione ai nostri vizi, terreni, che perdiamo questo ruolo per una pietanza, per una pietanza, per un'immagine, per una foto, attenzione a ciò che guardiamo, attenzione ai nostri vizi, attenzione. Voi vi siete invece avvicinate al monte Sion, alla città del Dio vivente, attenzione, non era fuoco, non era tempesta, non era squillo di tromba, non era un'oscurità, attenzione, era il monte di Sion, quella persona che vi ha parlato, attenzione, era il monte di Sion, città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi di angeliche, tu esau, sei stato scelto primogenito, ma per una foto, per un'immagine, per un vizio terreno, hai perso il tuo ruolo di primogenito, e adesso piangi, attenzione, poi piangi, perché vuoi riconquistare quel ruolo, infatti sapete che anche più tardi, quando vuoi ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedessi con lacrime, perché non ci fu ravvedimento, attenzione, esau, che per dei vizi terreni, perdi il ruolo, poi piangi, ma tu non ti ravvedi, attenzione, il Signore ti porta a guardarti dentro, ai vizi, alle pietanze, che hai davanti, e guardi con i tuoi occhi, attenzione, che perdi, perdi il regno di Dio, che passa accanto alla tua vita, il Signore dice, badate di non rifiutarvi, di ascoltare colui che parla, la parola del Signore, quando passa nella nostra vita, ascoltate ciò che vi viene detto, ascoltate, che può essere una grande benedizione per la nostra vita, che la possiamo vendere, per dei vizi, per dei vizi umani, mettiamo i vizi davanti, le pietanze dei vizi umani, attenzione, perché se non scamparono quelli, quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi, se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, la cui voce scosse allora la terra, e che adesso ha fatto questa promessa, ancora una volta farò tremare, non solo la terra, ma anche il cielo, attenzione alla scossa che arriva nella nostra vita, attenzione alla parola di Dio, che arriva come una scossa nella nostra vita, attenzione che è colui che parla dal cielo, non è un fuoco, non è una tempesta, non è un'oscurità, attenzione, ma il monte di Sion, è città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, la festante riunione, delle miriadi angeliche, quando passa il Signore nella nostra vita, quando passa la parola del Signore nella nostra vita, perciò ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti, e offriamo a Dio un colto gradito, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante, sì, è anche un fuoco consumante, ma è sempre il monte Sion, è città di Dio vivente, la Gerusalemme celeste, e quando passa un messaggero di Dio, come Mosè, che ci parla da parte di Dio, attenzione, quella è una festante riunione, delle miriadi angeliche, a Dio il monte Sion, a Dio il regno di Dio, Amen.